Una situazione già abbastanza magmatica, arriva una proposta dal capogruppo alla Camera del PD. Lo dico cercando in qualche modo di sbollire gli animi, sembra una proposta fatta apposta per portare voti a voi dell'opposizione. La Covid Tax, detta anche patrimoniale, cioè praticamente tassare i redditi sopra gli 80 mila euro. Abbiamo Italia Viva che dice no, abbiamo 5 Stelle che dice no, Zingaretti dice non ne sapevo nulla. Che cosa succede? Finisce in niente questa cosa. Ma voglio sperare, guardi. Bisogna essere pazzi a pensare che in un momento del genere si possa affrontare la situazione mettendo un'altra tassa. Io non so quale mente possa avere partorito una cosa del genere. Noi abbiamo il rischio di desertificare l'intero sistema produttivo nazionale. Forse non è chiaro quello che sta accadendo in Italia. Noi rischiamo che tra qualche mese la povertà sia drammaticamente peggiorata. Ma come può venire in mente che invece di mettere i soldi nei conti correnti li si debbano prelevare? Io avevo proposto di mettere mille euro nel conto corrente di quelli che non avevano i soldi per fare la spesa e mi hanno deriso. Poi mi hanno deriso perché preferiscono prendere e prelevare i soldi dai conti correnti. Ma a me tutto questo pare folle. Ovviamente noi non siamo d'accordo. Su questo siamo pronti a fare tutto quello che c'è da fare per impedirlo. Ma vede, la sinistra perde il pelo ma non il vizio. Due cose ha proposto il PD e i ministri della sinistra nell'ultima settimana. La patrimoniale e la regolarizzazione degli immigrati clandestini. Qualunque cosa accada loro hanno sempre due soluzioni. Tasse immigrati. Io non sono d'accordo francamente su questo. Mi pare forte.